e che storie comprese fai 20 no tra i 12 e i 50 anni ma sei un pedofilo no io lo posso tutto tra le 12 e 50 anni non c'è una legge immagino ci sono, quelle mie io ho più di 2000 bambini e... no tutti i maschi, i miei bambini e con i bambini e con i bambini fammi capire e con i bambini? no harem le mie, i miei figli ah si sono più di 2000 tutti i maschi tutti bianchi si per forza c'è pure una negra però quella l'ho sterilizzata mi faccio massori con figli e come hai fatto? eh? come ho fatto? ho preso il mio coltello magico l'ho perso la pancia l'ho tagliato dell'ovaio e li fanno mangiata a cena in frittura mista alla cocco per ora prendra l'ho Grazie.